Il primo posto è il tuo, è inutile che gareggia, ne sostenerei anche 2-5 Io ne ho fatta mai una infatti, non mi serve a me, io ce l'ho d'ufficio, tavolino Esatto, 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 vittoria tavolino Tavolino con il mio boccione di rosso, hai capito? Il mio bottiglione da un litro e mezzo di rosso è già mio Oh dai, le parti nostre stanotte è più avuto sempre Ma anche qua è brutto oggi Sono stato pure in carcere stanotte è più avuto Sono stato in autostrada a fare un incidente brutto Ho dovuto da fare un sacco di roba stanotte Brutto brutto Morto pure uno Morto uno? Eh sì E sopra di me Marco L'ho vittato eh No ce ne tanti, ce ne tanti in quel cuore Ce ne tanti Ma più tanti? 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 Era una concentrazione notevole di tanti Sì, c'era Ma che ho detto, ce n'era uno che sono andato a pushare Ce n'era uno che si è scappati 3-4-8-12 C'erano tanti Diciamo così che Siamo bene Ciao Amato Bond Dai Amato Poserei dire che ce ne erano troppi Non tanti Ce ne erano troppi proprio Eh sì Ah poi sarete adesso Cosa qui? Le attività nemiche Cosa ne ho detto? Cosa? 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 L'altra sera doveva fare una partita con Crema Dopo c'è avuto un infiolo che voleva andare a dormire Era è sfiga Era una vita come si è occupo Carbonara Ma il Christian non è che è mica tante volte il gioco? Apposta Mi è dispaciuto Ha preso il visto di farsi di seghe in live Eh va bene Non c'è problema Chi sei la strega Vado nel bosco E mi faccio una sega Setteva che c'è chi nate? Una nuova c'è Vedo così per il Christian Ma mago ma è la tua squadra di Cristiano No lui c'è la bacchetta raga Non c'è la squadra di Cristiano C'è la bacchetta una Alcuni dicono 28 Alcuni 29 Insomma io sono Eh dipende 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 un po' da come sto Io so che quando organizzo una serata Con lui presente È tutta Cold out Sempre Io mi sa che sono morto Perché c'è il gas Anche io sono morto Eh c'è il gas Anche io Siamo in due per il gas qui Ecco Ecco esce in mezzo il gas Vado È morto Questa roba qui Cosa cammina C'è passo Ragazzi mago è la bacchetta da 28 Barra 29 Sempre pronta La prossima serata ve la dico Poi È sempre sempre pronta ragazzi E che è pingato lì C'era qualcuno o è pingato a caso Chissà Non ho pingato io Non ho pingato io Chi può dire Lo dà Eh sì ce l'ho dito Il prossimo obiettivo Andare nel bosco E vi faccio una sega Ottimo Eh infatti Seguiamo Diamo un senso alle canzoni Il movimento Nemico Qui E attività nemica Argo nemico Io ho 4-4 Cuccio-cuccio Mi sei Com'è mago lì da te E attività nemica Guarda che ammi usi Perché io sono stupido Ah io ho fatto un road out Una volta Poi Rikirubaga Se mi piace La condivisione Bravo Rikirubaga Sborra Rikirubaga Attacco con mortaio alleato Com'è ma me Dio mercole Io sto usando Allora L'STB Mi sembra che sia No matto Guarda che sono Vado qui Vado con nemico Sei di nuovo in azione Dacci dentro Che buono Ho cio I pochi artifici Buona raga Qui c'è Un nemico In volo Vado qui Cosa è furia combattiva Veramente vai giù Bene Ci sono io Marco un nemico Granata Ci sono io Mi sparano addosso Buongiorno Buon sabato Luciano Bella Grazie Anche a te Ci sono io Mi servono cure Mi servono colpi di medio calibro UAV nemico attivo Uso una carica per forate Carica per forate Buon abominico in zona Grazie a tutti.